numero 5 questa soundbar lg 3.1 con una potenza di 420 watt è un'eccellente scelta per gli amanti della buona musica e del cinema gli altoparlanti offrono una distribuzione uniforme del suono con potenze variabili e un potente subwoofer da 200 watt è particolarmente apprezzata per la possibilità di ascoltare file flac direttamente da memoria usb e per la connettività bluetooth con codec saak l'effetto audio 7.1.4 con dts virtual x offre un'esperienza immersiva tuttavia presenta alcune limitazioni per quanto riguarda i codec cinematografici avanzati e la sensibilità del bluetooth alle interferenze radio acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 4 la soundbar lg sp2 si distingue per la sua qualità audio avvolgente con i suoi 2.1 canali offrendo una potenza di 100 watt e connessioni versatili sia cablate che bluetooth dotata di un telecomando e supporto per codec audio come wma mp3 ah e dolby digital garantisce una riproduzione audio eccellente tuttavia il subwoofer integrato può risultare meno potente rispetto ai modelli esterni le dimensioni compatte di 76 per 9 per 6,3 centimetri la rendono perfetta per qualsiasi ambiente trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 questa soundbar lg è una soluzione versatile per migliorare l'audio domestico con una connessione bluetooth e cablata consente un'esperienza d'uso adattabile il subwoofer esterno e il sistema a 2,1 canali garantiscono un suono potente e avvolgente supportato da tecnologie dolby e dts la potenza di 300 watt e l'ampia compatibilità di formati audio la rendono ideale per diversi tipi di contenuti l'app e il telecomando completano un pacchetto ben progettato risultando in valutazioni elevate trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 2 il sistema di soundbar dlg offre un'esperienza audio potente con 160 watt di potenza totale grazie ai suoi altoparlanti da 30 watt e al subwoofer wireless da 100 watt sebbene il bluetooth 4.0 possa sembrare obsoleto il supporto per il codec ak garantisce comunque una qualità audio elevata per l'ascolto della musica la presenza di una porta usb per la memoria esterna è utile anche se supporta solo formati mp3 e wav tuttavia la mancanza di supporto per il dts potrebbe deludere gli audiofili più esigenti il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 1 questa soundbar dlg offre un'esperienza audio di alta qualità grazie al suo impianto potente e ultra compatto dotata di connessione bluetooth e cablata telecomando e app garantisce un suono immersivo con dolby atmos e dts x il sistema audio adattivo tramite intelligenza artificiale aggiunge un tocco tecnologicamente avanzato purtroppo il prezzo è elevato e manca l'integrazione con assistenti vocali misura 29,6 centimetri per 12,6 centimetri per 6 centimetri e pesa 1,6 chilogrammi in descrizione trovi il link di questo prodotto video